Ciao, oggi vi presentiamo una girandola per la festa della liberazione ma anche per il giudizio. Un'idea simpatica e divertente da far realizzare ai nostri. Siete pronti a lavorare con noi? I materiali per questo laboratorio sono scheda stampabile gratuitamente, fortici, pennarello rosso e verde, cannuccia, ferma campione, colla stick. Iniziamo. Coloriamo le strisce alternando il verde, il bianco e il rosso. Lo faremo sia avanti che sul retro. Ritagliamo con le forbici la nostra scheda, sia il perimetro del quadrato che le diagonali, lasciando unito il centro. Vi raccomando, richiedete le nostre schede, sono gratuite e fatte appassitamente per voi. Noi abbiamo colorato con i pennarelli, ma vanno benissimi i pastelli, pastelli a cera, acquerelli, tempolo, gessetti, digito, insomma, qualunque cosa che vi faccia piacere. Ora facciamo un trucco, cioè ci aiuteremo con la colla stick per riunire le quattro diagonali, così che dopo sarà più facile forarle, senza farle scappare via. Se siete esperte, non c'è bisogno della colla. Poi, con un punteruolo o qualunque cosa con un minimo di punta, faremo un foro e facciamo passare il fermacampione. Allo stesso modo con la cannuccia. La posizioniamo e apriamo le linguette del fermacampione. Ed ecco finito. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube o Pinterest.